suo braccio forte dopo quasi un mese di stop rientra alla grande Linda Tarducci che torna a giocare in bianco nero dopo la scorsa stagione con le cugine del Castiglione del Lago. Arriva l'attacco di Romani tenuto bene dal muro bianco nero Tarducci dalla seconda non può forzare allora ancora Romani da posto quattro questa volta l'illacci poi si guardano Bertinelli e Cicogna peccato la palla non può essere contrattaccata ma c'è il guizzo di Semaca contro il Cattolica Volley per l'ottava giornata sempre alle ore 21. Ancora Tarducci la distacco ancora Tarducci ancora a cercare Partegno poi arriva l'attacco di Romani tenuto da Bertinelli la stessa Bertinelli che serve Ragnacci può a protestare eccessivamente dal secondo arbitro. Ancora Tarducci ancora a cercare Partegno poi arriva Romani che attacca out ancora capitano Tarducci al servizio viene fischiato un per portarsi sull'1 a 1 18 Trestina 10 Corridonia ancora Linda Tarducci a cercare il libero Giorgi l'attacco della nuova entrata Chimaroli che non chiude Arianna Cicogna ma trova il tocco del muro la mano esterna del posto 2 di Macerata E' buona la battuta di lì E' ancora la battuta di Campitan Tarducci che mette in difficoltà e avversare